Donne e lavoro, passato, presente e futuro. Questo è il titolo dell'evento che il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo d'Annunzio ha organizzato quest'anno per la giornata internazionale della donna. Quest'anno il Cug dell'Ateneo d'Annunzio ha deciso di dedicare i festeggiamenti in onore della giornata internazionale della donna al tema Donne e lavoro, perché quest'anno nel 2019 ricorre anche il centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro. I temi che abbiamo messo a fuoco e che quindi abbiamo voluto trattare riguardano la presenza delle donne sul mercato del lavoro, la condizione che esse vivono come lavoratrici, le loro difficoltà, le opportunità anche che vivono le donne, sia con uno sguardo rivolto al calzo italiano e ai paesi sviluppati, ma anche con una prospettiva che si allarga ai paesi in via di sviluppo e ai paesi emergenti.